Ciao carissimi carissimi, oggi siamo qui a Carnago per dare un'anteprima di una villetta a schiera con un giardino stupendo, una cucina grande, un soggiorno come vedrete meraviglioso e beh tre camere da letto, box doppio e adesso vi porto di qua in cucina, andate guardate quanto è grande e quanto tutti insieme potete tranquillamente mangiare, adesso con me fuori in un giardino di ben 140 metri quadrati e la cosa spettacolare e stupenda è che è direttamente collegato a un parchetto giochi, quindi i tuoi cari bimbi possono crescere in tutta libertà giocando tantissimo, guardate che bellezza la pavimentazione e in ogni camera un gioco stupendo di luci per illuminare, qui un bagno completamente già rifatto, sì i bagni sono totalmente nuovi, saliamo e andiamo a scoprire il piano primo eccoci qua, un disimpegno che addirittura è dotato di un grandissimo ripostiglio per collocare tutto ciò che volete e iniziamo con la camera da letto matrimoniale gigantesca con poi un'uscita sul balcone e vedete un verde ovunque meraviglioso, abbiamo il cammino che è ventilato e di conseguenza bocchette d'aria anche sopra nei piani e qui una camera da letto, oggi però stanno facendo smart working quindi non entriamo e l'interiore camera, guardate quanto è bella e raffinata e qua da me per vedere un bagno realizzato con ceramiche bisazza e adesso scendiamo, andiamo a vedere l'ingresso con davanti la possibilità di collocare due macchine oltre al box doppio da qui entriamo, qui abbiamo il nostro locale caltaia, qui una tavernetta molto grande dove stanno facendo i lavori e qua il nostro box doppio, venite e guardate qui tranquillamente una prima macchina, la seconda macchina e qua il nostro box doppio, fantastico il tuo approccio pazzescamente interessante, chiamaci e chiedi info ora!